Buongiorno a tutti, oggi qui con noi Federico Leoni, docente di antropologia filosofica presso l'Università di Verona. Federico ci ha proposto per il nostro lessico per un tempo a venire una parola molto specifica, plastica, che ci ha proposto ricollegandola a un'opera che è presente nella mostra Contemporane e Contemporanei a Santa Marta. L'opera è un'installazione, una scultura quasi, diciamo, di Masashi Echigo del 2010 che si intitola Apolog. E niente, Federico, intanto buongiorno, prima di tutto. Buongiorno Nicola. Bene, volevo così innanzitutto chiederti come mai avevi scelto questa parola specifica, plastica, per il nostro lessico e anche perché avevi scelto quest'opera, insomma, che adesso vediamo in condivisione che in effetti è fatta di plastica. Ma ti lascio la parola. Sì, in effetti è fatta di plastica e questo è stato il primo spunto, il primo motivo che mi ha indotto a scegliere quest'opera. In effetti il motivo più esattamente è un motivo di contrasto, cioè è un'opera di plastica. Plastica, come sappiamo, è non solo il nome di un materiale, su questo vorrò dire qualcosa a un certo punto, ma il nome di questo materiale ha a che fare con il plasmare evidentemente, quindi in qualche modo è un nome della scultura come un dare forma a un materiale. E la plastica è un materiale di tipo molto specifico, no? È un tipo di materiale su cui dirò qualcosa, ma per anticipare la questione è un materiale che porta alla plasticità, appunto, da qui l'idea di dargli questo nome, al massimo. È un materiale massimamente plasmabile. E qual è il motivo di contrasto che mi aveva indotto a interrogarmi davanti a quest'opera? È che qui paradossalmente siamo davanti a un'opera plastica, un'opera di scultura, come anche tu dicevi, dove però non si plasma nulla, dove si assume del già plasmato, del già formato, e semmai lo si assembla, lo si mette in serie, lo si inserisce dentro a un concatenamento. Allora, questo elemento di contrasto era il primo spunto, diciamo così, il primo elemento di stupore, in qualche modo, che ha messo in moto la mia riflessione, che mi ha fatto dire, se dovessi scegliere un'opera e se dovessi dire qualcosa sul contemporaneo, partendo da un'opera, forse sceglierei quest'opera, forse sceglierei questo elemento di contrasto. Forse, ecco, se dovessi indicare una prima via di approfondimento alla questione che mi attira in questo insieme di problemi, diciamo così, di vie che si aprono, è che la plastica è l'arte della scultura, diciamo così, banalmente e anche etimologicamente, e cioè la scultura è pensata, dentro una logica di questo tipo, come un dare forma, come un plasmare e uno scolpire il materiale, che sia il marmo perché diventi il corpo di una dea o il volto di un sovrano, oppure che sia l'argilla perché diventi un vaso, una statuetta, un monile. E' evidente che si immagina che la materia sia disponibile a una forma, no? È un dispositivo molto canonico, quello che è all'opera, anche semplicemente nel nome della scultura come arte plastica. E qui però non si plasma nulla, appunto. Abbiamo un materiale che è massimamente plastico, che è il frutto, diciamo così, più tardivo e anche più fedele a questa tradizione, che pensa il dare forma come dare forma a una materia disponibile, a una materia passiva. La plastica è come un marmo portato alla massima potenza, al suo statuto di massima potenza, cioè è un marmo ma che non ha più le venature e che quindi non condiziona più in alcun modo il movimento dello scalpello e l'arte dello scultore. Oppure è un'argilla ma che non ha più granuli, non ha più imperfezioni, cioè è una materia portata alla sua massima materialità, è una potenza costruita perché sia potenza pura, potenza che in nessun modo ha già delle forme. Il problema del marmo o del legno, evidentemente, della scultura in legno è che ci sono delle forme, diciamo così, che la materia ha già in sé e che fanno ostacolo, che intercettano, interferiscono, disturbano in qualche modo, producono rumore di fondo rispetto all'intenzione. Se appunto scultura significa dare forma, cioè imprimere da fuori, dall'esterno, dall'alto, dall'altrove, il marchio di una idea o appunto di una forma, di uno stile. E allora plastica, da un certo punto di vista, è il sogno di tutto questo, è la materia che sarebbe piaciuta a Platone, è la materia che avrebbe fatto felice Aristotele quando dice che la madre è materia e la virtù di una buona madre, nella generazione, nella genesis, e beh, la virtù di una buona madre è di non, diciamo così, ostacolare l'imprimersi del segno, del segno paterno, cioè della forma del padre, e cioè dell'idea platonica, alla fine. La virtù della buona materia, diciamo così, se pensiamo in questo modo, molto metafisico, molto antico, molto classico, ma di cui appunto la plastica come materiale è l'epitome, è la realizzazione più profonda, se pensiamo così, la virtù della materia è di non offrire rumore di fondo, di non disturbare la trasmissione con del rumore di fondo. Allora mi colpiva, e questo è l'elemento di contrasto da cui partivo, mi colpiva il fatto che quest'opera, che è di plastica, fa giocare alla plastica tutt'altra funzione, tuttavia. È materia non plastica, plasmabile, massimamente docile, disponibile, ma è materia già plasmata, che viene assunta come già plasmata, che viene assunta come una memoria di cose già accadute, di forme già ricevute, di progetti dentro a cui questi pezzi di plastica sono già stati, sono delle scocche di scooter, che l'artista ha recuperato come materiali di risulta, sono dei rottami da un certo punto di vista, cioè sono tutt'altra cosa da una materia, diciamo, eternamente vergine, e sono tutt'altra cosa quindi da quel sogno a cui la plastica come invenzione voleva rispondere. Qui la plastica è già plasmata, qui l'atto, diciamo, del creatore che imprime a una materia che è un nulla, poiché non ha alcuna forma, no? E quindi l'opera del creatore che crea ex nihilo viene soppiantata da tutt'altra logica. A me interessava questo punto in cui, lavorando proprio sulla plastica, la logica della plasticità viene soppiantata da un'altra logica, o la logica della creazione ex nihilo, da quel nulla che è la materia, viene soppiantata da tutt'altra logica che mi verrebbe da indicare, diciamo così, come una logica della composizione, oppure dell'assemblaggio, oppure del bricolage. Ecco, questa è l'altra via che mi incuriosiva. Sì, no, ma è interessante la cosa che, insomma, sono interessanti le tue osservazioni perché, insomma, in qualche modo l'artista, come dire, gioca la plastica contro se stessa, in qualche modo. Cioè, rinnega la sua natura di, come dicevi tu, di materia priva di rumore, di materia, se vogliamo recuperare, insomma, un termine battagliano, che comunque è stato ampiamente, insomma, giocato nell'arte del Novecento di informe. Sono materie informe e l'artista, come dire, ce la restituisce invece nel suo aspetto già formato, che poi, se vogliamo, in qualche modo è anche un'attitudine molto contemporanea, nel senso che poi la plastica di per sé è uno, forse l'hai scelta anche per questo, non lo so, magari poi ce lo spiegherai, è uno dei materiali della contemporaneità, in tutti i sensi, non solo nel punto di vista più ontologico, come, insomma, ci dicevi tu, cioè come sogno di una materia priva di resistenze, ma anche è il, come dire, il materiale con cui forse abbiamo più a che fare tutti i giorni, da le confezioni del supermercato a scocche di dispositivi, insomma, diciamo, un materiale che frequentiamo comunemente. Mi interessava magari se volevi un po' così approfondire poi lo slittamento che stavi suggerendo da, come dire, dello statuto proprio del materiale ai suoi possibili usi, che, insomma, hai, come dire, ci hai fatto intuire tramite, come dire, l'opera di Echigo, insomma, tipo, per esempio, la questione dell'assemblaggio, del riuso di materiali già formati. Sì, esatto, cioè la plastica è il sogno della materia massimamente materiale, e questa è la definizione, diciamo così, filosofica della plastica, fa tutt'uno con l'aspetto che tu dicevi, per cui la plastica è la materia, diciamo, della modernità, non dire del contemporaneo, ma è interessante lavorare anche qui per contrasto, è la materia del moderno, cioè la materia dell'industria, la materia della produzione di massa, della produzione seriale, della produzione che stampa infiniti esemplari senza che nello stampaggio si produca alcuna resistenza, quindi è la materia massimamente ottimizzata, o, se la si vuol vedere dall'altro lato, è la produzione di forme, di oggetti e di merci massimamente ottimizzata. Noi però siamo in un'altra fase, o siamo sulla soglia di una mutazione del moderno, di un approfondimento forse o di un mutamento radicale del moderno, che dall'interno del moderno, e appunto dall'interno della plastica, come ci mostra molto bene, io credo, l'opera di Echigo, dall'interno di tutto questo gioca appunto la plastica, come tu dicevi, contro se stessa, cioè non il quasi nulla di un'opera di creazione, di un gesto di creazione, ma l'ambiente, diciamo così, la circostanza di una composizione. E chi dice composizione dice tutt'altra cosa, tutt'altro paradigma. Dice, cioè, chi dice composizione, dice automaticamente ricomposizione. Dice riaggiustamento di cose disagiustate. Dice riuso di cose già usate, e cioè di cose non solo disagiustate, ma rotte, di rottami, di sopravvivenza e di progetti precedenti. Dice non verginità, ma sopravvivenza, e rumore di fondo che non cessa di manifestarsi. Comporre, si potrebbe dire, significa, dentro questa logica, comporre sempre e soltanto, solo con rumore di fondo, non più col suono perfetto del violino, non più col suono perfetto del pianoforte, del flauto, ma con rumore di fondo. È per questo che la musica contemporanea lavora così tanto, così radicalmente, e in maniera del tutto consonante con quello che fa Eccigo, e tanti altri evidentemente, da un secolo a questa parte, con il materiale di risulta. Cioè, con il rumore di fondo, che nella misura in cui capiamo che non c'è che rumore di fondo, l'ipotesi platonica cade, allora non sono più neppure rumori di fondo, ma sono il fondo e basta, sono il fondo stesso. Ecco, questa è la cosa che mi attirava, diciamo, del nuovo paradigma, del passaggio da creazione a composizione. Composizione cosa significa? Beh, intanto significa quello che abbiamo sotto gli occhi se guardiamo quest'opera, che è un apologo, nelle intenzioni dell'autore. È un apologo, quindi è un esempio, ha una sua esemplarità, indica una via in qualche modo. Ogni apologo trae un logos, una razio di nuovo genere, dall'esempio che incarna quel logos e quella via. Intanto è una composizione nel senso che è una serie, è un assemblaggio, è una disposizione, è una specie di ventaglio, se lo guardiamo da un certo punto di vista. Da un altro punto di vista potremmo dire che questo che è il materiale massimamente artificiale, la plastica, quello che noi quantomeno viviamo come massimamente artificiale, massimamente disponibile all'artificio dell'imposizione delle forme, beh, questo materiale massimamente artificiale viene piegato di nuovo contro se stesso, giocando con se stesso, quantomeno, viene piegato dall'artista fino a raggiungere un punto di indecisione che va da qualche parte verso, mi viene da dire, il naturale, l'organico, il morfologico, il vivente o la spoglia di un vivente che continua a vivere. Questa sembra una specie di conchiglia, se lo guardiamo da un altro punto di vista. Sì, mi ha ricordato una parte di Nautilus qua appena alla vista. Esatto, assolutamente. Cioè ha qualcosa di marino, ha qualcosa di comunque del vestigia di un organismo, diciamo così, e di una struttura organica, forse ancora in atto, forse ancora vivente, o forse non più vivente, ma dentro cui qualcosa di una vita precedente continua a sopravvivere. E questo è un gioco interessante, nel senso che la plastica, come tutti sappiamo, è un derivato di materiali fossili. La plastica è un fossile, da un certo punto di vista. È un derivato del petrolio, che appunto è un prodotto sedimentario. E in qualche modo viene curvata questa plastica di nuovo in direzione del fossile, ma in un altro modo del fossile, facendo giocare anche il fossile, è un'altra logica. È una conchiglia, diciamo così. Se è una conchiglia, significa che è il fossile che sopravvive a una vita precedente e che continua a, come posso dire, documentare in maniera testarda che qualcosa sopravvive. Questo, da un certo punto di vista, è qualcosa che l'evoluzionismo, diciamo la riflessione sul vivente, che la biologia evoluzionistica ha proposto, ha documentato in modo molto interessante. Cioè tutta l'evoluzione del vivente è, come diceva qualcuno all'inizio di tutta l'avventura del darwinismo, nuovi usi di vecchie funzioni. Ogni organo, diciamo così, del vivente, non è un organo che nasce per la prima volta imprimendo una forma della materia, ma è un riuso di una materia forma che già c'era, di una struttura che era già stata messa a punto, diciamo così, da precedenti avventure evolutive, da altri viventi, da altre specie, in altre circostanze, e così abbiamo che una pinna diventa una zampa e dunque una zampa è ancora in qualche misura una pinna. Una squama diventa una piuma, tutti sappiamo che i primi uccelli sono una variazione, una variante dei rettili. Una squama diventa una piuma, dunque una piuma è ancora in qualche misura una figura della sopravvivenza della squama. Diciamo così, ogni vivente è un bricolage di fossili ed è un fossile lui stesso. Ogni vivente è una sovrapposizione, una stratificazione di sopravvivenze, di tempi precedenti, di logiche, diciamo, biologiche sopravviventi e mi sembra che anche questo sia uno spunto che possiamo ricavare dall'opera di Echigo. Anche questo è un apologo che in una qualche misura lui ci consegna, cioè siamo davanti al bricolage, al bricolage come figura, diciamo così, non dell'assemblaggio di oggetti, noi tendiamo a pensare l'assemblaggio di Rottami, come è il suo caso, sotto le specie del bricolage, ma pensiamo che il bricolage sia l'assemblaggio di cose. Invece per questa via che sto cercando di indicare, che mi sembra che l'opera suggerisca potentemente, noi abbiamo un'altra idea di composizione, un'altra idea di assemblaggio, un'altra idea di bricolage, assemblaggio e composizione non di cose, ma di cose viventi, di cose ancora viventi, di progetti passati, di materiali che hanno in sé, diciamo così, il marchio del progetto passato che continua a incombere, a esercitare una sua opera, diciamo così, inerziale, e questa opera inerziale dei progetti precedenti, dei contesti precedenti, non smette mai di intercettare l'intenzionalità attuale, l'intenzione, la forma che stiamo producendo o coltivando, sicché siamo sempre in un punto non intenzionale, diciamo così, in cui una vecchia linea inflette quella nuova nella sua direzione, intanto che una nuova linea inflette nel suo senso tante linee passate, tante avventure progettuali passate. Quindi questa idea di bricolage mi sembra un'altra via, diciamo così, che traghetta qualcosa del moderno verso il contemporaneo. Prima di chiudere, volevo così, mi sembrava molto, come dire, che tu abbia lavorato molto bene questa sorta di paradossi interni della plastica che il Cigo fa ben vedere sia, come dire, nella struttura dell'opera, ma anche nella scelta appunto di materiale specifico che, così, Anpassan è bene sottolineare, noi siamo abituati, diciamo, dal punto di vista della cultura occidentale a non riusare né tanto o meno ad assemblare, diciamo, la produzione di massa invita alla produzione continua e in qualche modo alla continua produzione di scarti che vanno più o meno a finire da qualche parte, solitamente, in una discarica. ma, e quindi, come dire, c'è questa, mi sembra che tu abbia fatto ben vedere questa polarizzazione interna del materiale plastica come proprio della modernità. Mi è piaciuta questa espressione che hai detto e volevo chiederti questa cosa specifica se, come dire, tu hai in qualche modo evocato l'idea che ci sia una, quando parlavi della plastica che in quanto derivante da un idrocarburo è stato un fossile in qualche modo, diciamo, su una scala geologica di tempi lunghissimi e tu hai un po' invitato a pensare a una memoria dei materiali in qualche modo. Cioè, che ci sia un'intrinseca temporalità che ogni materiale in qualche modo porta con sé e la memoria del marmo non è la memoria del legno e non è la memoria della plastica e volevo chiederti così per chiudere se anche secondo te da questo punto di vista di una memoria dei materiali come dire la plastica è più vicina ad una memoria della modernità cioè se ci scontriamo anche uno slittamento proprio nell'uso di questi materiali per cui la plastica ci dice qualcosa di diverso da materiali che per esempio le arti visive hanno utilizzato in precedenza. direi così sì senz'altro l'opera di Ecigo è una memoria della modernità è un tentativo rammemorando di spostarsi di creare un decalage dal moderno dalla plastica come sogno della modernità e dunque di rendere possibile un altro gioco con il moderno e quest'altro gioco con il moderno che noi siamo perché noi per tanti versi siamo il moderno siamo nella modernità questo gioco e questo uso del moderno questo rammemorare il moderno è il contemporaneo è il margine di gioco che noi possiamo avere rispetto a noi con tutta l'oscurità con tutta l'incertezza la difficoltà che questo gioco comporta qual è la grande diciamo così difficoltà del riciclaggio potrei dire così qual è la grande difficoltà che tutto il nostro tempo ha rispetto alla gestione degli scarti che sono un tema etico un tema politico un tema industriale un tema ecologico qual è la grande difficoltà beh la grande difficoltà io direi così nel gestire gli scarti sta nel fatto che noi vorremmo materiali smemorati noi vorremmo materiali senza memoria e la plastica serviva in maniera ideale questo sogno di una materia che non avendo sua memoria non avendo le striature del marmo non avendo le venature del legno eccetera non non ha nulla di suo da ricordare e da ricordarci lasciandoci dunque una totale libertà diciamo un materiale senza memoria come è la plastica o come ambisce essere la plastica consente al soggetto o consente all'industria diciamo consente a una paradigma di produzione di lavorare nella illusione di una completa libertà e di realizzare in qualche modo la libertà come questa illusione e invece maneggiare un materiale che è già forma un materiale che è già stato progettato significa mettersi in tutt'altra prospettiva e questa tutt'altra prospettiva è io credo uno dei segni e forse una delle saggezze incipienti del contemporaneo del contemporaneo a differenza del moderno lavorare nel segno di questa saggezza significa progettare immaginando di consegnarsi all'operatività della circostanza significa comporre immaginando di essere l'operatore di una composizione che si fa di una circostanza che si compone da sé a partire da sé a partire dalle sue sopravvivenze diciamo così significa pensarsi come un operatore della circostanza significa pensare che noi siamo dei piccoli operatori non so come dire e che la circostanza è il grande operatore la circostanza è il grande motore della composizione e significa peraltro verso in questo insegnamento diciamo così che ha qualcosa di una lezione di umiltà però c'è anche una grande possibilità io direi c'è anche una via che si apre e che andrebbe battuta se noi pensiamo in questi termini dovremmo dire che non ci sono che piccoli operatori che la circostanza è fatta di poli diciamo così di tanti poli ciascuno dei quali è un rottame noi compresi ma ogni materiale compreso cioè qualcosa di rotto di disagiustato dotato di una sopravvivente intenzionalità maestranea e in ciascun punto diciamo così si scopre che appunto perché quei poli quei materiali quegli oggetti vecchi in via di riciclaggio appunto perché sono i perfetti appunto perché sono i rottami di un altro progetto precedente di una vita precedente quei rottami pensano quei rottami comportano una una linea di movimento comportano l'insistenza di una progettualità che non è umana che non è soggettiva e che però è umanizzabile è soggettivabile cioè scopriamo che i rottami gli oggetti scartati gli scarti pensano in noi pensano per noi e che pensare io forse direi così conclusivamente pensare significa o progettare significa entrare in un qualche rapporto con questo pensiero con questa efficacia inerziale con questa sensibilità che è delle cose bene abbiamo finito il nostro tempo ti ringrazio un tanto Federico per questo bel dialogo e questo anche per aver scelto una parola eccentrica insolita ma per quanto comune che forse hai ben mostrato che dice qualcosa sul sul nostro presente più di quello che che potrebbe sembrare prima vista bene grazie ancora Federico e buona giornata e buona giornata